Buongiorno, sono Guglielmo Panichi e curo l'organizzazione commerciale della BXB. In questi dieci anni di attività la BXB ha generato circa 55.000 commesse per un volume di affari di oltre 200 milioni di euro coinvolgendo oltre 4.000 piccole e medie imprese a livello nazionale. Tutto questo ci ha permesso di creare e di mettere a punto delle strategie, delle tattiche e delle procedure che rendono di fatto la BXB l'unica vera realtà in Italia specializzata nello scambio multilaterale in compensazione di beni e servizi tra imprese. Abbiamo una serie di partnership molto solidi come ad esempio la Cofas, assicurazione del credito leader nel mondo che dà ai nostri associati la serenità e la tranquillità di poter operare in sicurezza con altre aziende solide e soldibili. In questo momento stiamo vivendo una fase di grande evoluzione commerciale, attraverso la creazione di una confederazione di mini BXB delle agenzie che avranno il compito di presidiare il territorio e di aiutare i nostri associati a scambiare tra di loro sempre in modo più efficiente sia a livello locale che a livello nazionale. Chi stiamo cercando? Stiamo cercando fondamentalmente un imprenditore che sarà a capo della propria agenzia a livello locale, che avrà consuetudine nel parlare con altri imprenditori, che conosca bene il tessuto economico della propria realtà, che abbia doti commerciali e che sia stato abituato a gestire reti di vendita, ma stiamo cercando soprattutto una persona che ama le sfide delle nuove opportunità. Quali sono le prospettive? Le prospettive sono enormi, basta guardare a quello che sta accadendo in paesi dove questi modelli di business sono più sviluppati, e mi riferisco agli Stati Uniti o alla vicina Svizzera, dove le aziende che fanno lo stesso mestiere di BXB stanno sviluppando dei numeri assolutamente sbalorditivi. Attenzione, nessuno di noi è così folle da ipotizzare un mondo senza denaro, ma l'utilizzo di una moneta complementare, l'Euro BXB, che consente alle aziende del nostro circuito di poter ripagare gli acquisti, non con il denaro, ma con delle vendite a nuovi clienti, in molti casi risulta essere veramente un tocca sana. Se questi temi ti hanno incuriosito, inviaci un tuo curriculum, vorrei parlare con te di persone per ipotizzare insieme una collaborazione. Ti aspetto.